Serata all'insegna dello spiedo, quella organizzata da RTOB, l'associazione dei ristoratori, trattorie, osterie e bresciane, al ristorante e caricatore di Gussago. Siamo ben lieti di partecipare alla serata organizzata dall'ARTOB, associazione sempre di ristoranti di Brescia e provincia. Siamo ben felici di poter ospitare nel nostro territorio l'associazione ARTOB, far capire a chi non si è avvicinato in questo periodo di avvicinarsi che è l'occasione, veramente in momenti di difficoltà, di essere uniti per migliorare. Obiettivo della serata, la promozione dell'associazione e la ricerca di nuovi associati. Ad oggi sono 300 i ristoranti che hanno aderito. Questa sera, come tutti gli anni, organizziamo la cena dell'ottobrata, una serata che riunisce tutti i nostri colleghi ristoratori per uno spiedo, come tradizione della cucina bresciana. Oggi come oggi, gli ospiti sono tutti colleghi o sponsor, quelli che ruotano attorno all'ARTOB. Diciamo che siamo arrivati a 300, circa. Adesso è un momento un po' di calo, dato il periodo non favorevole. Però oggi è un momento dove vogliono vedere qualcosa di concreto e pertanto abbiamo raggiunto un numero non molto elevato. In futuro possiamo raggiungere un futuro molto elevato perché abbiamo creato un organico nuovo che sarà molto più aperta e precisa la nostra coordinatrice segretaria.